Sono Renato Goria, sono l'amministratore delegato della Alplast di Asti, noi ci occupiamo di produrre capsule e chiusure per il settore delle bevande, un'azienda che è stata fondata da mio padre nel 1953 e oggi ha raggiunto una dimensione europea se non internazionale in quanto la produzione viene fatta tutta in Italia ma viene venduta in circa 80 paesi fuori dal nostro paese. La nostra azienda oggi è arrivata alla terza generazione, il motivo per cui sono qui oggi è perché credo fermamente nell'iniziativa del festival promosso a Verona della dottrina sociale della Chiesa su quanto riguarda la realtà di quello che noi facciamo e la concretezza con cui andremo a spiegare soprattutto anche ai giovani quello che noi stiamo facendo, abbiamo fatto nella nostra vita, nella nostra storia e che possa dare impulso alle nuove generazioni per nel futuro aprire nuove attività, nuovi investimenti da parte soprattutto di queste nuove generazioni che oggi si sentono un pochettino spaesate in una società come quella italiana molto complessa, molto variegata dove fare impresa è sempre stato negli ultimi anni molto difficile. Grazie a tutti.